Continuiamo la serie dei video tutorial dedicati a Gestotel In questo nuovo video tutorial mostreremo come è possibile impostare i servizi che la nostra struttura, motel, ristorante, bed and breakfast offre ai propri ospiti Per impostare nuovi servizi si va nel menu in alto in listini, imposta servizi In Gestotel i servizi si distinguono sostanzialmente in due categorie, servizio base e servizio accessorio I primi indicano i servizi necessari a contabilizzare il soggiorno Mentre i servizi accessori vengono utilizzati per servizi come garage, spiaggia o piscina E possono essere impostati come costo di utilizzo per persona, per camera o per utilizzo In questa schermata il trattamento indica sostanzialmente la tipologia di servizio che si sta offrendo Quindi se è un servizio di bed and breakfast oppure di mezza pensione o di pensione completa o di pernottamento In quest'altra sezione possiamo applicare il servizio che si va a creare a tutte le camere Oppure a tutte le tipologie di camere singola, doppia, tripla, quadrupla Sostanzialmente in questo menu a tendina noi troveremo tutte le tipologie di camere che abbiamo creato in precedenza Procediamo nella creazione di un servizio base Quindi supponiamo di voler creare un servizio di camera singola Il costo di utilizzo di questo servizio è per camera Lo impostiamo come servizio base in modalità pensione completa E lo applichiamo a tutte le tipologie di camera singola Salva servizio In questo caso vediamo che è stato creato il servizio di camera singola Il costo di utilizzo di tale servizio è per camera Si applica a tutte le tipologie di camera singola È un servizio base E il trattamento che offriamo è in modalità pensione completa Per creare invece un servizio accessorio Quale per esempio l'utilizzo di un garage Inseriamo il nome del servizio che si sta creando E lo impostiamo per esempio come costo di utilizzo Selezioniamo servizio accessorio E lo applichiamo per esempio a tutte le camere dell'albergo Quindi per qualsiasi cliente Che si trova in una qualsiasi camera Quindi questo servizio può essere utilizzato da tutti i clienti La corretta creazione dei servizi È di vitale importanza Per l'automazione delle operazioni di prenotazione Nei servizi accessori Quindi in questo tipo di servizi Come l'ultimo appena creato Si consiglia di inserire solo servizi aggiuntivi Quali possono essere per esempio L'utilizzo di un garage O di una spiaggia privata della struttura O di una piscina della nostra struttura Infatti questi tipologie di servizi Quindi servizi accessori Possono essere poi scontati Attraverso le classi di sconto Che vengono create attraverso questa sezione Classi di sconto Mentre altri addebiti Come per esempio La consumazione al bar Per le quali non ci sono degli sconti Quindi non vengono effettuati Non sono scontabili Vengono definiti Invece nella sezione Listini imposta extra Che vedremo Nella creazione dei prossimi Video tutorial Alla prossima 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 Grazie.